Allora, tutto questo, intanto ringraziamo di cuore il provatore. Signora, si accomodi, prego. E' un piacere avervi qui, io ho introdotto parlando dell'esperienza, parlando dell'esperienza, dell'attuazione delle riforme in Sicilia sull'elezione diretta del sindaco. Salvatore Lombardo, abbiamo ricordato essere stato il primo sindaco dell'elezione diretta attraverso l'attuazione della legge Grillo che portò poi appunto ad avere il primo cittadino più amato dei master. Grazie. Grazie. Applausi. Grazie. Applausi. La cosa simpatica che commuove anche a mezzo. Grazie. 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 Grazie.